Ciao ragazzi, qui Cricco per guadagnocolblog.it Oggi vediamo come avere massima visibilità su YouTube Bene, oggi sto registrando con una nuova webcam, la Logitech C920 Una bomba, sicuramente la migliore, registra in P180, quindi insomma è interessante Allora, oggi vi faccio vedere tramite insomma un bel po' di anni di esperienza su YouTube Il mio primo video l'ho caricato nel 2009 e il mio canale principale ha circa 20 milioni di visualizzazioni E attualmente 53 mila iscritti, che non è chiaramente questo canale che state vedendo È un canale dedicato al pianoforte perché è solo un pianista eccetera eccetera Andiamo a vedere quindi come riuscire a dare maggiore visibilità ad ogni video Ma non tanto inserendo descrizioni e cose varie Ma riuscire a dare, riuscire con un video su YouTube a rendere il massimo Noi siamo qui su questo canale perché vogliamo aumentare il fatturato Vogliamo aumentare le vendite, vogliamo avere più visibilità Ecco, per fare tutto questo sicuramente YouTube stesso non può portarti a nulla È presente quando qualcuno ti dice Ah, impara a guadagnare su Facebook, impara a guadagnare su Instagram Ma non è Facebook stesso che ti paga Sei tu che vendi servizi attraverso Facebook Non è Instagram stesso che ti paga Sei tu che vendi servizi attraverso Instagram Poi per carità adesso stanno attivando per alcune pagine la possibilità di monetizzare attraverso gli annunci Così come anche i partner di YouTube possono monetizzare attraverso gli annunci Ma quelli sono diciamo dei guadagni indiretti Sono pochi euro al mese Così possono essere utili per rifarsi alcuni soldi delle pubblicità Se vogliamo Però ci sono metodi molto più importanti Quindi se vendi un prodotto o un servizio E fai dei video su YouTube per pubblicizzare questo prodotto Ti faccio vedere quali sono le operazioni che assolutamente non devono mancare Allora, bene, allora andiamo in questo mio canale Aspettate che faccio lo switch, cambio account Questo è un altro canale ancora E ti faccio vedere in che modo io realizzo i video e come li setto all'interno del Creator Studio Allora, per esempio, quest'ultimo video qui che ho caricato Te lo faccio vedere un attimino così sappiamo di cosa sto parlando Vabbè, questa è la presentazione Parte il video, eccetera, eccetera Allora, che cosa c'è questo video di particolare? Vabbè, a parte il titolo, la descrizione Poi ricordate i ragazzi sempre nella descrizione di mettere tutti i link dove li possono trovare Su Facebook, su tutto Questo è importante Lo so che oggi i link di YouTube, la descrizione di YouTube non la vede quasi più nessuno Ma uno su mille la va a vedere Quindi anche quell'uno su mille è però importante Poi, qui in alto a destra, vedi che c'è una I E ti faccio vedere questa I che a un certo punto compare proprio all'interno del video Se non mi sbaglio la faccio comparire verso la fine Un attimo di pazienza Che compare questa scritta Eccola qui Accedi a Power Left Che è il titolo del corso Se clicco qui Mi esce questa barra Che se io ci clicco sopra Mi rimanda al mio sito internet All'e-commerce del mio sito internet Dove io vendo il prodotto Ok? Quindi questa è la prima Quindi tutti quelli che vedono il video Da PC ma anche da tablet Da smartphone Questo è molto importante Quindi ogni volta che fai un video devi aggiungere una scheda Come si fa? Entra all'interno del video Entra all'interno del video E qui c'è schede Ci clicchi sopra Scegli il momento del video In cui vuoi Che ne so Questo video qui E fai Aggiungi scheda Puoi mettere O un video o una playlist O suggerire un canale Magari che non sia il tuo Fare un sondaggio Questa opzione Onestamente non l'ho mai provata Inserire un link Attenzione che non puoi inserire Qualsiasi tipo di link Non puoi mettere link di affiliazione ad Amazon Perché? Perché YouTube Ti prende solo I link Associati al tuo sito internet Quando tu personalizzi il tuo canale Ti dice Qual è il tuo sito internet? Pianosolo.it Ok Allora puoi far partire solo i link Da pianosolo.it Non puoi inserire gli altri O almeno devi averli verificati Prima di poterlo fare Per esempio Amazon Non puoi verificarlo Perché il sito non è tuo Ma ti faccio vedere Che c'è un'operazione Che ti permette Comunque di bypassare Questo problema Quindi aggiungere le schede Assolutamente Seconda operazione da fare Visto che la descrizione Non la legge Praticamente più nessuno È inserire tu stesso Un commento E metterlo in evidenza Così comparirai per primo Nei commenti Quindi fai il commento Vai qui Doi sono i tre puntini Metti il commento in evidenza Ora il commento è già in evidenza Quindi ti dice Così di spostarlo Chiaramente puoi prendere Anche i commenti di altri E metterlo in primo piano In evidenza Ma noi preferiamo il nostro Perché all'interno del nostro C'è il link per il prodotto Quindi Se tu non hai visto Questa i per accedere al prodotto Ce l'hai nella descrizione In più Non è il caso di questo video Possiamo mettere anche La schermata finale La schermata finale È questa cosa qui Dove negli ultimi 20 secondi Del video Puoi inserire nuovamente Link, canale, video suggeriti Eccetera E questi ti compaiono Insomma negli ultimi 20 secondi Del video All'interno del video Bene Questi sono i passaggi Assolutamente obbligatori Che devi fare Per dare massima visibilità Al tuo servizio Adesso ti faccio vedere Quel trucchettino lì Per farlo però Ci avvaliamo Ci avvaliamo Per esempio Per esempio Di questo mio canale Devo solo trovare Il video in cui ho fatto Questo magheggio Vabbè Utilizziamo un video A caso Allora Qui c'è la descrizione C'è tutto Eccetera Andiamo su schede E come ti dicevo io Questo qui Essendo il mio canale Personale Che si chiama Come me Cristian Salerno Se faccio Aggiungi schede E link Io posso Beh qui mi da Tutti i stil siti Qui Però io posso Utilizzare solo CristianSalerno CristianSalerno.com Slash Eccetera Eccetera Se voglio inserire Un altro sito Per esempio Andiamo su Amazon Per esempio E scrivo Che ne so Pianoforte Digitale Prendo il link D'affiliazione Di questo Qui Prendo il link Affiliato di questo E lo vado a mettere Qui dentro Se vado per andare avanti Mi dice Cosa stai facendo Ur non riconosciuto Del sito web associato Quindi Non puoi sponsorizzare Apparentemente Il link Che non arrivano Dal tuo sito Ma ti faccio vedere Una tamarrata Allora Vado all'interno Del mio sito CristianSalerno.com Sono nel Pannello Di wordpress E devo installare Un plugin Che si chiama Tirsti Affiliate Questo l'ho già Sponsorizzato altre volte È gratuito E tutto quello Che devi fare È Aggiungi Quindi Qui guardi I vari link affiliato Aggiungi il nuovo link E guarda cosa succede Da qui Dai un'escrizione Link Pianoforte Digitale A coda Inserisci Il tuo codice Il tuo link Affiliato di Amazon E fai clic Gli dai una categoria Se vuoi Fai clic su salva Nel momento in cui Lo salvi Lui ti trasforma Questo link In questo www.cristianSalerno.com Eccetera Eccetera Allora nel momento in cui Poi tu vai a copiare Questo link Che è quello Affiliato di Amazon All'interno di Youtube Guarda cosa succede Tac Avanti E per magia Se si sbriga Ti fa andare avanti Hai visto? Quindi è possibile Inserire Qualsiasi link Provenienti anche Da siti esterni Link affiliato Link Ragazzi Insomma Youtube è uno strumento Potente Ma bisogna saperlo utilizzare Queste sono tutte le cose Che io ti consiglio Di fare Quindi Descrizione del video Il primo commento In evidenza Schede all'interno Di ogni video E schermata finale In questo modo Voi riuscite a promuovere I vostri prodotti E i vostri servizi Al meglio Ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao